In diretta, vita in diretta. Allora ragazzi, ci stiamo evolvendo, stiamo progredendo, no? Comunque, no? Il canale deve crescere. Deve crescere con voi. Sta ottenendo dei successi che sono sotto gli occhi di tutti. Non voglio parlare in maniera egocentrica dei successi del canale. Penso che ci siano i numeri a dimostrarlo. Penso che ci sia l'audience, ma soprattutto la suspense che ha generato il canale all'interno della piattaforma, il cambiamento che ha portato. L'avventata di novità, ok? Allora, preparo dei pamplee, ma i pamplee, questi pacchetti di notizie, preparo dei video, ma non è detto che li faccia in diretta. Nel senso, per esempio, l'ultimo video, ho detto buonanotte, perché mi ero addormentato. Ovviamente, mi ero addormentato. Era le 4 di notte, fai te. Comunque, capito? C'è da lavorare, c'è da lavorare. Quindi cosa succede? Molte volte preparo il pamplee e poi lo metto in onda, capito? Come va, va. Quindi la vita è in diretta perché devo lavorare di più. Dobbiamo lavorare di più. La mia equipe deve lavorare di più per dare un servizio completo.